mollica puoi alzare la testa non ti vergognare te li sto elettrizzando tutti però mi stai anche tirando i capelli scusami non devi abbassare la testa volevo far vedere ma si vede già ti sei abbassato e si è scombinato non mi preoccupare ce la possiamo fare e tu hai la testa storta ma come ti permetti devo reggere no no grazie è normale ridere non mi immaginavo la gente che tipo con la candela strumenti di tortura moderna esatto in realtà era una tortura medievale questa si ritraiava una persona sul lettino e le si metteva una candela in bocca e la si accendeva e le si faceva a scuagliare sul viso oh che bella comenta hai visto hai visto se vuoi questi semo io so tante cose felice che cosa no 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 va bene va bene i tuoi gatti mi guardano come se fossi scema lo sanno mi sento ma i loro piedi riporto perché riporto lo sai che queste cose finiranno nei bloopers ti vuoi male tra l'altro credo che si sentirà sì invece si sente tutto si sentono le voci di mamma e papà sono nell'altra stanza quando regge ma quando ho visto il video i bupe i bupe i bupe i bupe del video della cassia non si sentiva la mia voce stavo a due sentimenti dalla videota vuol dire che sei sorda figlia mia ma non ti muovere io come faccio se no è una pessima casa comunque non è vero facciola brava 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 dia brava ho detto ecco l'aila che va alla conquista della mollica sì perché molly è il diminutivo di mollica che è il modo in cui io chiamo lei non chiedetemi perché non lo so mi è venuto un giorno un po di cassia la puoi fare anche a lei certo mi è venuto un giorno di chiamarla così e dall'ora dal remoto 2011 è rimasto è vero ci siamo fatti ci siamo fatti amecchie guarda per ti tu che sei miss miss vecchiaia cuccia questo immagini ecco bravo mollettino la testa abbassata è perfetto brava brava ma mentre volendo posso infilare pure la testa nella scodella eh certo e poi fare questo tipo shampoo sì non mi dire sì certo perché se no lo fai sì ma perché tanto me la fai tu quindi io ho la fortuna dell'originale frecce tatate frecce tatate no frecce tatate frecce tatate ah avevo capito trecce tatate non ho lo scaricatate non ho lo scaricatore di porto di questo video insomma senti è qua traverte ma quindi potremmo mettere i capelli nella scodella tanto l'effetto è questo ah così si attiva pure la microcircolazione si come nel bravo il massaggio dello scalpo scalpo ogni tutta scalpo ciao ciao sono rosa e ho bisogno di un cervello nuovo dopo che mi hai trapanato la testa aspetta no cosa stai facendo questa cosa malvagissima sì lo so però è necessario tu hai detto che l'avevo fatta bene ma giusto perché sennò non capiscono eh di fila scusa è buona peccato che non posso vederlo vuoi che ti faccia una foto dopo? no ok tanto la vedrai nel video indovinate un po' qual è il mio colore preferito il verde eh? come? hai un super nudo eppure ti avevo pentinata ma i miei capelli sono fatti così perciò non li lascio mai sciolti e perché non ti fai abbastanza spesso la cassia vedi? sono un po' fatica io non voglio faticare un po' troppo